Cosa cazzo ho appena creato? Che cos'è? Qualcuno me lo spieghi? Dai che cazzo sta combo di merda! Regale, è meglio di KidWoo sta cosa! Dai che cazzo ne voglio! Che mi spieghi? E beh ragazzi sono Cavani e benvenuti a questo nuovissimo video! Oggi siamo su Tekken Tag Tournament 2 Il gioco per la Xbox 360 ragazzi è vecchissimo però sti cazzi Perché è un gioco troppo bello Cioè io veramente Tekken quando sto gioco mi diverto veramente un sacco Ok direi di iniziare con il personalizzare il nostro personaggio Si diventa un po' buio nei momenti in cui andrò le cose Ma non ne l'incita studio né niente Quindi lascerò fare tutta la macchina di grafica Ok prima di tutto scegliamo il personaggio Chi usia? Direi qualcuno di ignorante Tipo un dinosauro Però un dinosauro non si può modificare molto Dai ci sta Prendiamo Arbor King ragazzi che non ne ho mai usato Ok iniziamo anche per girare oggetti Maiale Porta Incenso o bolle di sapone? Bolle di sapone Anzi no maiale Porta Incenso giusto perché è in tinta Già potrebbe essere un'idea Si dai Vada per il perizzo Ma come ne lo mettiamo? Direi il bianco che è in tinta col maiale E poi gli oggetti ragazzi Io amo questo gioco perché è ignorante Cioè voglio dire puoi mettere un cazzo di cartello di attraversamento canguri Però questa bandiera non è male Bandiera del sushi Però è spettacolo questa Ma devo dire che però attraverso un canguri mi aveva colpito particolarmente Quindi bisogna diventare quello Arriviamo con un albero di Natale Un filipano Io direi la carne preistorica ragazzi Si è perfetta secondo me Ok ragazzi ci siamo Ecco qua il nostro Armored King Il nostro ghepardo Di perizzo Facciamogli la foto E la facciamo bruttissima la foto Così Perfetto A questo punto usiamo Alex Guardatelo Non è peggiorante E a lui invece gli mettiamo le bolle di sapone Oh mio dio ragazzi è ignorante come non c'è cosa No No E a lui gli mettiamo il sushi No raga È la cosa più ignorante che io ho mai visto Cosa cazzo ho appena creato Che cos'è Qualcuno me lo spieghi Ok da arcade ci siamo signori Armored King Bestione orribile Alex È il dinosauro Bestione bagnante No raga guardate quanto sono ignorante c'è anche davanti il coso Siamo la squadra perfetta Cazzo se lo siamo Spiegare quanto è ignorante Sì Madonna quanto è ignorante Ok Oh la madonna che tiga è incredibile Sì all'inizio è abbastanza semplice Anche perché sono entrambi i bachini Quindi Ok Ok È uno Mamma che pugna Che è Ma la manza Babacone Ecco Ma c'è veramente Gli emossi di questo sono In teoria Tra l'altro c'è un modo per usare gli oggetti Sono un po' Cos'è successo Allora ma stavo usando un cartello Non so se avete visto Eh dopo ce li proviamo Allora ma stavo usando un cartello non so se avete visto Eh dai pezzo di merda No No Cosa stavo facendo Stavo facendo qualcosa con la carne No voglio farlo però Prego Eh cazzo Non è che c'è ci muoio facendolo Eh non riscosato Rega So i tasti Almeno Credo di sapere i tasti Oh shit Che schifo fatto No Non capisco cosa fa però Chiargli la punghia Eh che bastardi La parlo tutti Eh impossibile Non serve un cazzo Guarda tutto Eh la madonna Cartello No Maddima mia Si fa questo schifo I due oggetti Fanno veramente Cagare Questo ci muoio Ho perso perché stavo usando il cartello Sì No l'ho mancato Non ci credo Si comunque fa schifo il cazzo Cioè ci mette veramente tantissimo tempo E se lo sbaglio non fa niente Con la Dalla cazzo di cosa Sì sì la carne Oh shit L'ho pagato però Ma cosa vuol dire Ma cosa vuol dire Ma l'ho schiacciata tra l'altro Cioè Gli ha tirato La carne Gli ha tirato Tutto qui Cioè non serve assolutamente a niente Sì Sì sushi Sì addos Io ho lanciato sushi Ma qualcuno mi sfighi Che cazzo di cosa è Regà con salvagente Non c'è abaccia Non so sicuro Che si possa usare Sì No L'altro l'ha fatto L'avevo colpita però Regà ma cosa serve Questa cosa Non serve assolutamente a niente Sì Sì Ok Non ciò di stupire Sono 3 o 4 Attenzione Oh no Madonna Incredibile King e Alex contro King e Alex C'è la testa C'è la testa tipo Ah uno che fa il lancio Del martello Ma lo sai Fatale No Ma lì era la mossa Agirevole che Continuiamo a fare Sì Questo cancetto qua Iniziale Pum C'è A quel tizio Questa che c'è Ma non sta Quina No no la carne O lì Ho distrutto Sushi Boom Oh guarda Con la macchina Cosa sta facendo Ah ok È tipo una giocstra Scoprono le macchie In maniera corto L'ho vista adesso Cioè io giuro Che nel mappe Ogni volta che Guardo Scopro qualcosa di nuovo Ragazzi Le apparate tutte Aia Ma che calcio Incredibile Tanto sentirete Comunque dei tastini Immagino La parano tutti È credibile Ole Siamo copiando insieme Tra l'altro Ah ok Vedi E gli acci E g in pace Quindi avrei beccato Due volte G E gli acci Comunque L'ho scuso Easy Ok Perfetto Anche due Adesso Si potessissimo gli acci Deciderà di Schiacciare E il botonazio E giù Guarda voi Oh Signore Questo ciccione enorme Drago Serpentoso Ma 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 Maestoso E brutto Ah Che schifo Quarto Dan Quarto Quanto sempre Più cazzuti Ecco Il fatto che Adesso non vuol dire Necessariamente Che è più scarso Ma No È praticamente Ha più vita È un po' più Rinforzato Mi fa più danno Rispetto a quello Che potrebbe farlo E tra l'altro È più difficile Non andare giù In questi ultimi Tratti Diciamo Che devo fanno Per forza Una presa O una bomba Qualcuno O comunque Molto danno Tipo Ah no Che cazzo è successo Olè 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 Ragazzi Siamo arrivati Fino all'ultima randa Senza morire Adesso sarà un bordello Mi ha anticipo Che sarà un bordello Dove c'è questo C'era dalla luce Incredibile Mi sta uccidendo Gli occhi Mi ha ucciso Gli occhi È dalla luce Esce Signori Signori Giù Il casale Ottavo danno Sì Secondo più Non credo che cambia Ecco Però fa queste Concenti Vieni Avete Arca C'è Un regalo Gli ho ancora fatto Un danno Continuo Non avete fatto Nemmeno uno Con le Questa è veramente Una rottura Di palle Ogni volta Dai È morto È finita Oddio Oddio Se la batto Oddio Come ho fatto E adesso c'è la rottura Di cassa ancora più grande Di quanto già Lo fosse prima Perché questa Bastarda Perde l'illiquido Viola Si sveglia così Non gatti No no Oddio Che male Non stavo No no E uno Dai Porca broia Sono morto E uno Per una sconfitta Cos'è sta cosa Regà Dai Non riesco a toccarlo Che rottura Di mezzo Che rottura Di mezzo Non mi lascia più Non mi lascia più Pori cattro Regà Non ti faccio Basta Che rottura Di cazzo Brutta Puttà Ma basta Mi danno Le para due Questo Di la prima una volta Ogni vent'anni E le para Le para Tu Basta Regà Non so più Cosa fare Non so più Cosa fare Non so più Cosa fare Continua Ma l'ha distrutto In due secondi Guardi Ma è uno scherzo Orca troi Tutte le pare Tutte Tutte Regà È impossibile Non ci credo Ho uno Mi ho fatto un danno L'ho colpita Una volta Sono Sono Sì Dai Che cazzo Sta combo Di merda Regà È peggio Di Kibun Sta cosa Puttana Che cagione Mi sta stringendo Puttana Che impossibile Merda Dai Muori Puttana Non Cosa E' finita Io non so cosa dire Regà Porca troia Non ne posso più Regà Stavo cambiando Cristo Dio Non mi bolla più Adesso mi fa la presa Che cazzo Che trovo Regà È impossibile Veramente Mi piaciuto Mi piaciuto Stavate Mardo Veramente Mi piaciuto Ho fatto la combo per la prima volta Tiragli sto cazzo di pugno È inutile al cazzo E guarda non ti faccio un danno Non ti riesco a colpirla una volta Vai che cazzo di pugno Basta Basta Ma sei grazie sotto Tutti Raga amici di esempio lo stesso Io non sa veramente che cazzo fai Faccio all'ultimo con questi personaggi Li cambio In giro di ricambio Lo beat è tutto ed è via fino a lei E adesso è la morte È la cazzo di morte Sicuramente cazzo Boom Cazzo Si 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 ragazzi C'erano questi bamboni Boom Si Boom Dai che cazzo vuoi Puttana di merda Ho messo dentro il dinosaurio E' finita E' inutile Ma cosa fa? Cosa serve con la mossa di merda? No Mi giuro che tra l'altro Mi si era tipo un bloccato così Se mi avesse colpito Sarei morto un botto Ho due max Per batterlo Si No 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 la mia Tanti tanti Qua Perché è buono? Perché è buono? Dentro la burtina No 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 raga Si 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 cazzo Finalmente Brutta puttana Primo dan E vaffa il culo Adesso guardiamo il cazzo di filmato Oh Mamma mia muori Porca troia non ne posso più Brutta puttana di merda Ragazzi che Che parto Veramente Armored team contro Come si si chiama? La luce Si Scusa Non è warang Perché warang è quello con gli occhiali E' fuori team Si è cazzato Si è cazzato Si è cazzato Si è cazzato Si La madonna Mi dispiace Ma che non è comunque vieni adesso E' tenuto la tizia Ma immagino che vinco io Ma che ha vinto Il 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 ragazzi vi saluto con i titoli di coda guardate quanto sono rosso spettacolo spero che il video vi sia piaciuto è stato veramente un parto vicino a batterlo ci becchiamo al prossimo video ne farò altri di tecken anzi adesso magari ne hai visto subito un altro vediamo un po chiusa qualcos'altro di ignorante sicuro di no 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 Non è che I'm good, I'm good, yeah